Fan di Sila Turkoglu e Ali Libraim Cheyan, miei amati, benvenuti sul mio canale. Sono qui con un nuovo video. Le voci secondo cui gli amici Ali Libraim Cheyan e Sila Turkoglu hanno un amore segreto continuano a rimanere all'ordine del giorno. Tuttavia, la misteriosa apparizione di Ali Libraim a Dubai ha recentemente attirato l'attenzione. L'attore Ali Libraim Cheyan, innamorato a Dubai, fornirà informazioni sul suo misterioso amante? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.